Musica Non so proprio che borsa prendere Scegli questa? No, secondo me è meglio questa qua Carina No ragazze, ma questa è quella perfetta Le prenderei tutte Scusa, ma questa valigia di Ambrosetti Cos'ha di così particolare che hai comprati tutti lì? Ma come cos'ha di così particolare? Dai, vieni con me che ti porto Musica 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 Ciao Benvenuta in valigieri Ambrosetti Oh, l'ho capito Te l'avevo detto Musica 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 Musica